Il vaccino non è efficace contro la trasmissione del virus, mentre gli impianti di ventilazione meccanica controllata, sì, e più sono i ricambi ogni ora, più si ottengono risultati sorprendenti. È quanto dimostra il primo studio condotto dalla Regione in collaborazione con la Fondazione IUM. Oggi in conferenza stampa sono stati illustrati i risultati del monitoraggio condotto su 500 impianti installati nelle scuole delle Marche. Il professore Luca Ricolfi ha riferito che la ventilazione meccanica, specie se adeguatamente dimensionata, cioè con 5, 6 o più ricambi ogni ora, ha una capacità di abbattere il rischio di infezione da coronavirus di oltre l'80%. Si va da un miglioramento delle condizioni di salubrità delle aule di due volte superiore a quelle non dotate di ventilazione meccanica controllata, fino a ben 6 volte. E voi capite che avere 6 volte meno di contagiati a causa della diffusione del covid, minore in questo caso, nelle aule dotate di ventilazione meccanica controllata, significa aumentare la salute dei nostri ragazzi, dei nostri concittadini, significa anche ridurre la pressione sulle nostre strutture sanitarie. Mentre il Ministero investiva sui banchi a rotelle, ha dichiarato Baldelli, noi abbiamo puntato sulla qualità dell'aria a beneficio di oltre 24 mila studenti, investendo 12 milioni di euro, di cui 9 per la ventilazione meccanica e 3 per l'acquisto di 798 sanificatori. Un numero importante che oggi certifica la lungimiranza della Giunta Acquaroli, che ha cercato di limitare il più possibile la didattica distanza. Ora chiediamo al Governo di invertire la rotta e di dettare le linee guida, ha aggiunto l'assessore. Non si perda altro tempo. Ora chiediamo al Governo di fare in fretta. Noi andremo a coprire circa il 25% degli studenti e delle classi marchigiani con i finanziamenti stabiliti dalla Giunta regionale delle Marche, dall'assessorato alle infrastrutture, all'edilizia scolastica. Ma chiediamo al Governo un investimento in campo nazionale di circa 2 miliardi, l'1% del piano nazionale di ripresa e resilienza, per dare sicurezza agli ambienti dove vivono la maggior parte del loro tempo gli studenti marchigiani ed italiani. Quindi dobbiamo dare questa risposta alla scuola italiana e il Governo è già in ritardo.